Buonasera, benvenuti alla seconda puntata, al secondo appuntamento. Siamo a Civitella d'Arna in questa bellissima location, siamo nel salone del castello Baldelli. Civitella d'Arna è una località ricca di storia, in questo momento anche ricca di vivacità, visto che abbiamo la festa delle campane del dialetto perugino, di cui anche questa sera d'Anfitrione il presidente della programma Lamberto Salvatori. Buonasera Lamberto, è piacere sempre di stare con noi. Sport e incontri nel parco, era l'idea originale del titolo, di queste puntate, di queste conversazioni, di queste riflessioni che facciamo questa sera con una bella platea di ospiti. Ma il tempo, le condizioni atmosferiche non ci permettono, quindi io direi uno sport e incontri presidente nel castello questa sera, lo vorrei ribattezzare, ma al di là della location, ovviamente la mia è una battuta, resta il fatto che quello che è il bello, l'estetica, quello che ci permette di riflettere, e il libro che questa sera e gli ospiti che presenteremo ci permetteranno delle importanti riflessioni sull'arte, sull'ecologia, sull'ambiente, tutto questo, questo ricercare, un agora, uno stare insieme, un parlare, credo che sia molto importante, soprattutto oggi dove la gente tende un po' a, come dire, vivere un po' in cellule virtuali, apparentemente collegate nei social, però in realtà manca sempre più questo tipo di incontri. Quindi con questo spirito noi arriviamo a questa seconda puntata e vi presento gli ospiti, questa sera il tema sarà un libro, Nazareno Stazzi, il confine dei sogni, l'erudita casa editrice, buonasera intanto all'autore di questa bella storia, Nazareno Stazzi, abbiamo poi altre persone, altri ospiti che con questo volume hanno a che fare, perché abbiamo Marina Benedetti che è stata l'illustratrice, buonasera Marina, benvenuta, che ha illustrato le tavole di questo bel volume e di cui vedete dietro intanto una riproduzione, ma ci sarà poi qui una bella mostra da visitare, noi invitiamo a visitarla perché ci sono tante opere, poi Marina ci spiegherà quali sono le tecniche, lo spirito di questa sua mostra, e qui dietro ne vedete alcuni esempi. E poi abbiamo chi ha curato la prefazione di questo volume, poeta, scrittore, insegnante, quindi una persona con cui ovviamente possiamo completare questa riflessione che è Enrico Cirquellini, buonasera Enrico, benvenuto, insegnante anche lui, quindi insomma un po' anche mondo della scuola e ruolo, mi viene da dire, degli insegnanti, degli intellettuali, di quello che dovrebbe essere un po' anche una, riappropriarsi un po' anche di queste riflessioni. Ma io, prima di passare con Nazareno Stazzi, ovviamente questo libro ci permetterà poi di fare un discorso a larghe maglie su quello che è l'argomento, io volevo intanto, Lamberto, intanto qui vediamo i pali della festa, perché la festa sta entrando nel vivo, qui sono i pali di Saratosti degli anni passati, insomma, la Proarna quest'anno ha voluto iniziare questi appuntamenti, questi incontri, queste riflessioni, insomma, qual era il tuo desiderio come presidente? Nella precedente puntata non l'abbiamo toccato questa sera, però la voglio un po' con te toccare. La Proarna festeggia il venticinquesimo anno di attività in questo 2019, e questo locale in cui ci troviamo l'abbiamo voluto dedicare a queste attività che sono state molteplici, come le locandine che vedete possono testimoniare. Saratosti, sì, è una ragazza del posto, è una ragazza che ha fatto le belle arti, è la nostra artista di riferimento, a quella che disegni i pali delle campane, è una gara tra rioni che noi andiamo a fare durante la nostra festa delle campane. E sport incontri, sì, è un appuntamento pomeriggiano che abbiamo voluto inserire nella festa per portare all'interno di una festa paesana anche temi importanti, come questo di oggi, tema molto importante. Io ho conosciuto l'autore del libro Nazareno Stasi pochissimi giorni, qualche settimana fa, e quando ci siamo visti mi sono trovato subito in sintonia. Poi ho letto il libro, assolutamente è una cosa che mi ha preso, e noi siamo, io personalmente, ma anche la Proloca è molto attenta all'ambiente, come molti sapranno, abbiamo da tre anni creato una sorta di motto, plastica a zero, come sta indicato nei nostri manifesti, e da tre anni abbiamo ridotto la plastica praticamente a zero, eliminando le bottiglie di acqua minerale, eliminando i bicchieri di birra, facendo tutto materiale compostabile, e a dimostrazione che la ProArna è interessata veramente a dare un segnale, non solo alle altre associazioni, ma anche ai cittadini, alle persone che vengono dalla nostra festa. Crediamo che l'ambiente sia al primo posto, dovrebbe essere al primo posto, non è purtroppo, ma non solo dei cittadini, ma soprattutto della politica. La politica si disinteressa dell'ambiente, come avrete visto anche delle immagini che vengono da tutte le parti del mondo. E sì, poi non vorremmo raccontare solo... Con te, ma non solo con te, vorremmo amplificare... Ecco, volevo raccontare solo che leggendo questo libro sicuramente è un pugno nello stomaco, e consiglio a molti di leggerlo. Io mi auguro che con Nazareno ci sia la possibilità di creare anche altre collaborazioni, perché è il libro veramente che fa pensare. Assolutamente io, personalmente, mi apprassi nell'esperienza e della rubrica Raccontando, che fa parte sempre di Sport Incontri, mi piace sempre entrare dentro il libro. L'ho iniziato e devo dire che è stata proprio una lettura magnetica, mi viene da dire perché questo è stato. Allora, io, andando in ordine proprio del libro, Enrico Cerquighini, io ho letto la sua prefazione di questo libro, e la cosa che mi ha colpito, a parte il sottotitolo qui c'è una favola post-apocalittica, la fine dell'umanità, il futuro della Terra, conservare la memoria. Però nella sua prefazione la cosa che mi ha colpito è il dire l'uomo cerca sempre di rimandare, no? Certe situazioni, ma tanto ci penseranno chi verrà dopo di noi. Questa lettura ci mette di fronte invece a un'ansia, a una preveggenza molto concreta. Insomma, qual è stata la sua sensazione leggendola, e poi nel momento che ho fatto la prefazione? Noi siamo arrivati a un punto di non ritorno. Cioè, non è più possibile rimandare a un domani quello che è urgente fare oggi, subito. Pensare di salvare il pianeta mantenendo stili di vita, quali quelli che ci stanno caratterizzando, è una pura utopia. Continuare a sventrare la Terra per estrarre petrolio, carbone, per produrre energia, alimentare un consumismo fino alle estreme conseguenze e allo stesso tempo calcolare il benessere delle persone in base al PIL. Il PIL cresce, se cresce la produzione industriale, ci sta portando alla catastrofe. vedere poi, anche a livello planetario, delle persone che dominano su aree notevoli del pianeta, tipo il Brasile, di Bolsonaro, ma anche lo stesso Trump in America, che rilancia il carbone o altro, rende la profezia distopica di Nazareno purtroppo molto plausibile. Siamo di fronte al punto di non ritorno. Noi ci accorgiamo, durante questi ultimi mesi, ci siamo accorti di quello che è una bomba di calore e in questi giorni ci stiamo accorgendo che cos'è una bomba d'acqua. Cioè devastazioni provocate dal calore, dal sole, devastazioni provocate da eventi improvvisi e devastanti. Assolutamente. Su questo credo veramente non ci sono più possibilità di rimandare le tematiche? Assolutamente no. E poi uno dei problemi più drammatici, oltre all'estrazione, è quello che Nazareno affronta in questo libro. Cioè la gestione dissennata che noi facciamo dei rifiuti. Prima il Presidente ha parlato dell'evitare la plastica, ma sono solo aspetti particolari dietro ai rifiuti che è tutto ciò che noi consumiamo e che non portiamo nemmeno a termine. C'è un giro d'affari colossali, un giro d'affari che ha praticamente acceso gli appetiti di parti innominabili della società. Io credo che Nazareno, come dire, la favola che diventa realtà, la fiaba che diventa realtà, come diceva Enrico Cerquiglini, resta il fatto che, ecco, scrivere questa storia, io leggo, tu sei un amante della natura, laureato in chimica, hai dato vita al centro universitario Neruda, quindi la cultura che è stata sempre un po' al centro della tua azione, ma credo anche, no, l'amore per l'ambiente e la natura. Insomma, forse proprio per questo ti stai rendendo conto, magari, no, che più di ogni altra cosa bisogna ormai affrontare questa realtà. Insomma, intanto vorrei partire da una domanda. Come ti è venuta a mente questa storia? Qual è stata la genesi? perché veramente c'è anche, ci sono anche echi, rimandi letterarici, cinematografici, insomma, però di per sé ha una sua forte originalità, insomma, questa è la mia personale visione. Ecco, volevo sapere un po' la genesi di questa tua storia. Allora, senza entrare nello specifico, perché io non ho voluto fare una, raccontare qualcosa per uno sfogo personale, ma per tradurre un sentimento di rabbia e cogliere quella che è la miopia dell'uomo nei confronti della distruzione della natura. Chiaramente è partito da una sofferenza mia, personale, e da questo poi si è, all'improvviso, io non l'avevo mai scritto, Enrico è un amico da sempre, ha fatto parte del centro Neruda, anche come la Marina. Noi siamo stati all'interno dell'università, coloro che facevano della cultura, un mezzo per riacquistare un senso critico. Parliamo di 30 anni fa, Erri? Anche più forse. Quindi c'è stato sempre questo impegno nei confronti dell'ambiente, dei giovani, della cultura, eccetera, eccetera. Però questo specifico, io non l'avevo mai scritto, e mi è venuto quasi distinto, all'improvviso come una illuminazione. Tanto era anche il linguaggio, il modo di scrivere, non so, se io dici come fai, adesso mi metto a scrivere, così di che adesso scrivo, non ci riesco. È stata veramente una traduzione di qualcosa che uno ha dentro, una rabbia, un sentimento, un amore. Cioè un amore tradotto al rovescio. L'amore per la natura, che io ho cercato di tradurlo in un linguaggio, in modo tale che si potesse cogliere quelle che sono veramente le criticità e la miopia dell'uomo. Uomo, hai tutto, hai la bellezza, hai la natura, hai il fiore, hai l'albero, hai gli uccelli, hai l'amore, hai... perché distruggi? Perché stai distruggendo? Chiaramente questo è un sentimento. Poi da tecnico ho cercato di non entrare in un tecnicismo, perché altrimenti finiva... veniva... troppo... Sì, e anche difficilmente leggibile. E lì ho cercato di tradurre quello che sono, cioè secondo me, l'elemento fondamentale, cioè anzi, due elementi fondamentali. Uno è che noi se non cambiamo modalità di gestire i rifiuti, eccetera, ma soprattutto di concepire i prodotti. Noi facciamo una macchina, facciamo un prodotto e poi diciamo lo smaltimento è così, così, così. No, all'inizio devi dire guarda, hai un impatto sulla natura tutto questo? Sì o no? Se è sì, lo devi o ridurre a zero o non le metti in commercio la macchina. Invece questo non avviene. E quindi siamo veramente, ecco, poi creiamo i rifiuti. I rifiuti c'è un innesco di, diciamo, di una degenerazione perché è un business. Come diceva giustamente Enrico. Senti, la storia, senza svelare il finale, perché, però ecco, insomma, come è ambientata, lo diciamo ovviamente per chi, no, è l'ascolto, immagini, una terra, puntini, puntini? io stavo pensando come posso ai nostri amici che non conoscono questo libro, io dico, chiudete gli occhi, immaginate di trovarvi su Marte, su Marte, su Marte non esiste l'ossigeno, esiste l'aria. a questo punto immaginate che quell'aria vi viene fornita gratuitamente non so da chi, da un essere che si prende cura di voi e lì un nonno, all'interno di questa cuba ci sono delle persone che non sanno perché si trovano lì, non hanno più storia. Alcuni mi dicono perché hai messo dei nomi particolari senza che lo svegliamo, perché praticamente le persone che stanno lì non hanno storia, chi ha storia ha un nome complesso. Allora, ciascun nome, ciascun cognome porta la storia di una famiglia. Se io, quel nome è ridotto al minimo, a un gutturale, vuol dire che io non ho storia perché la storia è stata interrotta. Quindi, in questo, diciamo, ambiente, in questo ambiente particolare dove praticamente, in questa cupola dove praticamente sopravvivono, sopravvivono proprio degli esseri che vagano e però non sanno nemmeno come si chiamano, all'improvviso un nonno ha una storia da raccontare, una tradizione che era rimasta che deve comunque comunicare al suo nipote in modo tale che quello rimanesse una pietra miliare anche per il futuro. E comincia a raccontare guarda che una volta non era così rosso e l'ossigeno ci viene regalato, una volta tutto intorno era pieno di fiori e allora devi descrivere il fiore da uno che non ha visto mai un fiore, devi descrivere un albero da uno che non ha visto mai un albero, devi far sognare il nipote e questo tutto entrato questo nipote rimane rimane proprio perso, non poteva immaginare, lui comincia a sognare e gli dice guarda però comunque che gli uomini i nostri nonni hanno distrutto tutto hanno distrutto tutto con i rifiuti hanno distrutto danneggiando la natura facendosi violenza l'uno con l'altro eccetera eccetera e poi alla fine alla fine non riusciamo ma come dire comunque è drammatico è drammatico e questo forse è la novità nel senso che sempre magari in certi racconti anche di futuro c'è sempre la speranza c'è sempre qui invece il messaggio vuole essere forte vuole essere diretto Nazareno non abbiamo più speranza non abbiamo più tempo non abbiamo più tempo vuole essere proprio ecco senza senza appello mi viene da dire Marina Benedetti quanto è stato ispiratore questo racconto per poter poi portare alle belle illustrazioni che lei ha fatto quando ho letto il testo di Nazareno ho aderito veramente con entusiasmo innanzitutto perché è un'urgenza e questo prima di Greta perché parliamo di diverso tempo prima di tutto il movimento che giustamente si sta scatenando però si capiva già che la situazione era drammatica e quindi il tema d'accordo la modalità la scrittura io sono specializzata in letteratura comparata scusate la definizione purtroppo o per fortuna comunque sia io ho trovato una prosa lineare elementare cioè aderente a quanto voleva essere comunicato quindi c'è una dal punto di vista proprio anche della scrittura una bellezza una sua bellezza che diciamo lo fa rientrare a mio avviso tra quei testi che sono falsamente semplici tipo il testo di Voltaire Candide oppure l'Elettre Persano insomma cose di questo tipo quindi nella migliore tradizione classica dal punto di vista proprio del testo è un'ecofiaba ha qualcosa da dire come mi ha ispirato mi ha ispirato perché appunto questa distopia e questa mancanza proprio di assenza di storia questo portare nella dimensione attemporale ma anche proprio appunto priva di luogo priva di tempo le persone con un'unità di misura del tempo completamente diversa assolutamente che non sappiamo poi definire bene questo membro però comunque sia ci porta in una dimensione che è che ha una una concretezza morale è un richiamo etico molto molto forte infatti il testo non parla soltanto di ecologia ma parla dei valori quindi si va veramente alla nudità dell'umanità e quindi questa cosa mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto e ho aderito diciamo con entusiasmo costruendo queste tavole ovviamente sono di commento le tavole questa è la copertina l'altra diciamo parla di coloro che hanno contribuito alla distruzione quindi è veramente una frammentazione e sono tutti i temi sia il discorso della spazialità attemporaneità della sensazione e quello della frammentarità sono tutti i temi che per me sono molto importanti ma io credo di sì e soprattutto quello che ho avvisato Enrico poi voglio coinvolgere anche l'amberto però con l'amberto volevo proprio iniziare a parlare di quello che si può fare oggi e di quelle che possono essere state anche le recenti notizie a livello di di quello che sta succedendo un po' nel pianeta terra no dicevo il fatto di questa attemporalità il fatto di questa di questa mancanza di spazio tempo però c'è un aspetto che mi ha colpito è questa volontà di tramandare la memoria di lasciare un qualcosa io credo che questo sia l'aspetto che ha caratterizzato la civiltà occidentale assolutamente ma anche quella orientale ma noi la stiamo assolutamente perdendo noi viviamo in un eterno presente che è un'eterno distruzione senza nemmeno la percezione del distruggere a distruggere sono gli altri non noi ci siamo de-responsabilizzati e questo porta un'incoscienza noi siamo come coloro che ballavano sul Titanic mentre l'iceberg già aveva fatto il suo lavoro non ci accorgiamo letteralmente che ci sta sfuggendo la terra da sotto i piedi non ci accorgiamo di quello che è un orizzonte molto vicino io ho accostato nella prefazione il libro un libro importante di Corman McCarthy La strada lì c'era già il disastro l'autore il grande autore non ha detto una parola su come era avvenuto questo disastro c'è la disperazione con questo bambino che attraversa questo mondo ormai privo di vita ridotto a cenere a un cielo cupo che non permette più ai raggi del sole di entrare Nazareno ha voluto invece fare un altro percorso il percorso di evocare forse come se fosse un bambino il bambino sopravvissuto del protagonista rievocare quello che l'umanità aveva perso e quello che l'umanità sta perdendo è tantissimo sia da un punto di vista valoriale perché ha sostituito a quelli che sono i valori che hanno sorretto l'umanità fino ad oggi dei falsi valori valori che hanno la durata di un software di una qualsiasi applicazione c'è qualche speranza un po' di rindizio la faccio a tutti questa domanda poi vorrei una riflessione da Lamberto da tutti voi c'è ancora la possibilità non dico di cambiare tutto ma di aggiustare un po' la rotta io non voglio essere pessimista però fatico ad essere ottimista cioè mentre i dati scientifici sono incontrovertibili il sorriscaldamento non è una teoria è sotto gli occhi di tutti ci sono prove scientifiche da tutte le parti abbiamo firmato un protocollo di chioto che è ridicolo perché gli Stati Uniti responsabili del 36% degli inquinanti nell'atmosfera non hanno aderito al protocollo Cina e Brasile hanno aderito però non ottemperano quelle che sono le decisioni perché godono di una specie di sanatoria per il semplice motivo che loro non hanno partecipato alla prima parte dell'inquinamento la Russia responsabile del 16% delle emissioni nell'atmosfera non ottempera quelle che sono le decisioni del trattato di chioto quindi siamo oltre al 75% della popolazione mondiale che non fa assolutamente nulla anzi utilizza in maniera dissennata il carbone il petrolio quasi dimenticando che il mondo sta andando verso forme di energie rinnovabili stanno inquinando la Siberia già era stata devastata dall'Unione Sovietica per l'estrazione del petrolio e stanno continuando in questo gioco al massacro l'altro in Brasile sta dicendo che l'Amazonia è la sua quindi noi dobbiamo stare zitti perché se emette solo il 20% dell'ossigeno del mondo magari bisognerà dirgli che l'Amazonia non è solo la sua è un patrimonio come dire mondiale a livello proprio di ecosistema potremmo dire che è stato eletto democraticamente certo no ma Lamberto c'è speranza insomma effettivamente siamo messi male ma io anche come colleghi diciamo lavorando nel mondo della scuola magari quando si va davanti ai bambini si cerca sempre di dire non solo dare un giusto input ma dare anche una speranza eppure credo che in questo momento ci voglia anche molto realismo no e qui scusa finisco la riflessione come diceva giustamente Enrico Cerquiglini toccando l'aspetto delle istituzioni l'aspetto anche della qualità del parlare del riflettere su queste tematiche noi ci stiamo da qualche giorno un po' riflettendo su quali possono essere gli accordi per un futuro governo tutto è tutto è lecito ma in questo caso sono macro situazioni che rientrano nel quotidiano e quindi bisognerebbe un po' anche correggere un po' il tiro anche per chi propone una certa qualità di discussione politica istituzionale e dire ma guarda che a me il problema non è solo il lampione il problema è qualcosa in più e quindi insomma Lamberto tu hai iniziato un po' a far riflettere in questo territorio che il problema non era solamente la buca sulla strada ma era ad esempio togliere i rifiuti dalle strade e non aspettare che magari venivano le amministrazioni di fare un lavoro di ripulitura la storia di La Provana la conosco bene quindi mi permetto questa riflessione ma nonostante questo l'associazionismo il mondo del volontariato il mondo diciamo della cultura c'è una necessità di passare un'azione perché altrimenti che ne pensi ecco e se c'è ancora la speranza di ambiente si parla troppo e non si fanno fatti concreti la politica non sente da questo lato come diceva il professor Cerquiglini e allora bisogna invertire la rotta cominciamo noi cominciamo dal basso la politica ascolta i cittadini il problema è che spesso si parla dell'ambiente e poi tra di noi cosa facciamo noi dell'ambiente facciamoci domani tra di noi chi rinuncia alla macchina di grossa cilindrata alla piscina all'escursione tutte le domeniche in macchina chi fa chi cambia modo di vivere di noi nessuno è disposto e questo è il problema del mondo nessuno di noi è disposto a fare un passo indietro cominciare da questa sala naturalmente e allora l'ambiente chi ci deve pensare è sempre qualcun altro per quello che io che sono utopista mi rendo conto che la battaglia è persa basta ascoltare i dati scientifici i dati scientifici sono incontrovertibili andiamo dritti verso l'iceberg e balliamo come diceva il professore la popolazione mondiale balla e andiamo contro l'iceberg questo è andato rifatto scusa un'ultima cosa io sono convinto che l'ambiente si rispetta anche con i nostri carelli al supermercato facendo una scelta invece che l'altra cominciamo a fare autocritica da domani al di là della festa che noi facciamo l'impegno adotta una strada abbiamo fatto una campagna per raccogliere i rifiuti però cominciamo da domani ognuno di noi cominciando da qui dire io cosa faccio per migliorare le cose vedrete che non faremo niente nessuno di noi fa niente allora bisogna cominciare a cambiare modo di vivere meno macchina più mezzi pubblici meno rifiuti da comprare e portare a casa il problema è che nessuno è disposto a fare un passo indietro Allora Nazareno dalle riflessioni che si facevano ci sembra un punto di non ritorno anche quello che insomma sentiamo a livello internazionale insomma adesso l'Amazzonia di questi giorni ma non solo anche come dire le velleità tra virgolette di acquisto della gruelania insomma insomma anche forse anche la politica c'è un mondo che si muove intorno a queste situazioni ma soprattutto ci sono segnali catastrofici importanti la riduzione dei ghiacciai insomma c'è un punto di non ritorno però noi dobbiamo essere ottimisti insomma bisogna nonostante tutto pensare di dare dei segnali contrastanti questo trend irricuperabile secondo me ci stanno due aspetti il primo aspetto è quello diciamo di dirci le cose come stanno con molta chiarezza i dati sono proprio impietosi perché praticamente ci stanno portando ci stanno indicando che noi stiamo andando verso la distruzione quindi praticamente quello che io ho prefigurato nel libro purtroppo l'ho scritto due anni fa vedo che ci stiamo caricando piano piano e stiamo andando verso quella direzione qui vedo praticamente degli aspetti che sono veramente c'è una sottovalutazione come diceva Enrico una sottovalutazione il mondo politico non è secondo me non ha preso atto oppure non è all'altezza della situazione perché praticamente se tu provi a fare qualcosa a tenere la schiena dritta come se qualcuno conosce un po' la storia la storia dell'ultimo periodo che è successo a Perugia ci sta qualcuno che ha tenuto la schiena dritta e uno di quelli sono stato io nel senso che non ho accettato certe situazioni di compromesso ma come semplice cittadino come testimonianza ma chiaramente in una maniera molto molto e qual è stata però non è che vuoi entrare nel dettaglio perché non è il caso la risposta del mondo politico qual è stata pochissimi mi hanno chiamato e quelli che mi hanno chiamato non sono stati coerenti con se stessi si si bravo 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 e poi alla fine zero non hanno fatto niente perché c'era un problema di inquinamento gravissimo quindi non hanno fatto niente le associazioni alcune associazioni bisogna dirlo mi dispiace però lo devo dire alcune associazioni che fanno i capi popolo contro l'ambiente comitato per questo comitato per quest'altro hanno un occhio una testa verso il mondo politico dice io strillo però se ottengo questo ottengo quest'altro cioè quindi c'è una sottovalutazione in particolarismo l'interesse prevale insomma sulle buone intenzioni ecco che mettiamo davanti mettiamo davanti i soldi i drin mettiamo davanti su ogni cosa il proprio interesse nessuno è in grado di dire io faccio questo perché è un valore perché stiamo andando verso la distruzione ho dei valori quindi bisogna ricostruire un po' tutto il tessuto avere il coraggio di andare fino in fondo andare e dire le cose come stanno e qui praticamente stavo ragionando su alcuni aspetti i giovani i giovani sono i migliori io ho fatto la presentazione del libro ad esempio a Sisi ho avuto due testimonianze di due ragazze che mi hanno veramente colpito una diceva che io una ragazza una bambina per me era ancora una bambina perché l'ho vista nascere è venuta su è venuta ha preso la parola ha detto io comincio da me io che cosa faccio mi faccio sapone mi faccio questo mi faccio quest'altro e io sto attento quando compro questo quando compro quest'altro io sono rimasto colpito e un'altra ha fatto un altro ragionamento contro il consumismo che no era vestita in una maniera molto eccentrica dico questa è la figlia di qualche invece ha fatto un discorso veramente distruttivo nei confronti e questo mi ha dato speranza mi ha dato un pochino di speranza che qualcosa è possibile fare però non abbiamo tempo non abbiamo più tempo dico l'ultima cosa che anche mi è anche personalmente dispiaciuto c'era una possibilità di presentare il libro in un in un festival per bambini mi è stato detto che questo libro è troppo impattante perché non lascia speranza abbiamo una speranza se noi facciamo ragionare i nostri figli i nostri figli su quello che l'attende l'attende la fine non le attende le chat o altro diciamo che si può dire tutto e io per l'esperienza con i bambini si può parlare di tutto anche di quegli diciamo argomenti l'elaborazione di un lutto per esempio nella mia esperienza con i bambini si può parlare anche di questo o con le giuste parole si può parlare di tutto questo concordo con te che non ci sono argomenti tabù se affrontati nella giusta maniera però il tema dei giovani dei ragazzi che lo vorrei un po' riflettere in effetti e qui mi permetto professoressa di entrare più nell'aspetto no? oltre all'aspetto artistico insomma si vive continuamente col mondo dei ragazzi a scuola però la scuola qualche volta a me sembra che un po' in maniera quasi donchisciottiana sta sempre più facendo battaglie dove però questi ragazzi quando escono purché con buone intenzioni c'è un mondo che li aspetta che non va in quella direzione è più attenta a inserire che a far pensare mentre invece io rimango dell'idea che bisogna insegnare a usare la testa ai ragazzi tirar fuori quello che c'è in loro perché non siamo noi che li direzioniamo ma sono loro che hanno dentro di loro quello che è importante nella sua esperienza quanto queste tematiche qual è l'impatto fondamentali cioè sono sono importantissime i ragazzi le capiscono ma dobbiamo essere comunque noi che facciamo vedere che riusciamo a aprire anche gli occhi su a focalizzare si tratta proprio di un problema di focus e quando anche appunto si parla di responsabilità personale di presa in carico proprio di quelle che sono le decisioni fondamentali si va veramente alla nudità dell'essere umano e anche nella tavola quando appunto che poi fa da copertina gli esseri che si vedono sono delle ombre perché sono delle ombre sono non hanno quasi un corpo perché non sappiamo in una catastrofe ipotetica che razza di mondo per noi umani potrà essere è l'umanità che va in crisi perché il mondo dicevamo anche con una persona esperta di astronomia ieri proprio che il mondo andrà avanti comunque cambieranno le forme di vita i pianeti continueranno a esistere la luce del cosmo esisterà bella pura come sempre ma quello che non sarà sarà l'umanità e se noi non ritorniamo veramente umani a prenderci carico delle nostre decisioni a essere moralmente responsabili di quello che facciamo veramente noi non saremo capaci di cambiare le cose io ci credo al fatto che si possa cambiare le cose si possono ancora cambiare anche se ci vorranno secoli perché non si tornerà non torneremo indietro sarà diverso ma riusciremo a non distruggerci se potremo cambiare i ragazzi hanno dentro di loro questa forza questa potenzialità professore la voglio coinvolgere perché anche lei lavora nel mondo della scuola come insegnante insomma i ragazzi i ragazzi i ragazzi i ragazzi si sono sempre positivi i ragazzi sono sempre stati rivoluzionari da sempre hanno sempre sognato di cambiare il mondo quando poi sono cresciuti un attimo sono entrati in contatto col mondo della politica le belle idee sono rimaste sui banchi della scuola purtroppo il sistema politico ma non solo italiano io direi ormai planetario non è che sottovaluta questi problemi non li prende proprio in considerazione non ha nessun interesse nel momento in cui avrà un interesse un tornaconto economico allora investirà su questi settori lo abbiamo visto in particolari settori della green economy e hanno investito i peggiori investitori del mondo tutto a un tratto quelli che hanno fino a ieri hanno inquinato di tutto hanno pensato di riconvertirsi fare un bel bagno all'anima e ritornare angioletti sono gli stessi che però non esitano minimamente ad investire nei settori trainanti dell'economia tradizionale ma questo questo è purtroppo il sistema del capitalismo noi parliamo finora abbiamo parlato dell'amazzonia dell'agroellandia della siberia ma noi abbiamo l'area più inquinata d'europa che è la pianura padana nel 1977 un cantatore righi gianco scrisse una canzone il fiume po diceva il fiume po è un fiume chimico ma senza h2o nel 77 l'hanno preso per un imbecille poi i dati sull'inquinamento sono inclementi la pianura padana è quella che è terra morta che praticamente produce solo ed esclusivamente perché c'è concime chimico e acqua concime chimico e acqua le industrie costruite nella maniera più dissennata noi in questo siamo maestri in quanto anarchici nel pensiero nel comportamento nel fare le cose come vengono poi tutt'al più faremo una sanatoria quanti industrie quanti mattatoi ancora confluiscono i loro reflui nei fiumi adesso mi viene da dire portavo all'esempio la pianura padana noi siamo una regione che simbolicamente ha il cuore verde ma in realtà quest'Umbria Lamberto professor Cequini è rimasto sto verde o sto verde si sta sbiadendo o si è sbiadito perché anche qui siamo nella terra poi dove vicino c'è un messaggio ecologista la terra di Francesco D'Assisi adesso da che se ne vuoi approcciare siamo in una regione che diciamo no della natura dell'ecologia di questi messaggi talvolta anche io lo dico scusate senza provocazione ma molto spesso ci si riempie la bocca poi in realtà nell'atto pratico però l'Umbria rispetto alla pionia della padana starà sicuramente meglio o si sta sbiadendo questo verde anche qui da noi chiamare l'Umbria la regione verde mi sembra veramente fuori luogo l'Umbria ormai è stata devastata basta prendere la superstrada la città di Castellaterni e guardare nei dintorni innanzitutto dei pannelli fotovoltaici che hanno distrutto dei campi agricoli di pregio importantissimo l'unica energia alternativa è quella che non si spreca comunque ricordiamoci l'unica energia verde è quella che non si spreca da dati certi si spreca nel mondo il 30% di energia noi produciamo tanta energia per poterne sprecare tantissima e ricordiamo che questi impianti fotovoltaici che hanno deturpato l'Umbria e tantissime regioni per non parlare delle paleoliche in Puglia sono nati perché con i fondi europei se no nessuno farebbe un impianto di questo genere e ricordiamoci che tra 20 anni questi impianti fotovoltaici faranno la fine dell'Eternit verranno buttati nei campi perché i costi di smantellamento saranno talmente alti che senza contributi europei questi impianti resteranno sui campi invece la regione Umbria ha autorizzato io mi prendo anche la responsabilità io scrisse anche all'assessore all'ambiente parecchi anni fa per dire è possibile distruggere un'intera regione con questa concessione di pannelli su campi quando esistono capannoni a centinaia che potrebbero essere adoperati e invece noi preferiamo distruggere il paesaggio a livello estetico ma anche a livello agricolo per mettere i pannelli abbiamo distrutto l'Umbria ragazzi voi io vi invito dalla superstrada a contare da Castella Terni quante impianti vedete scendendo salendo e poi vediamo l'Umbria è arrivata ma poi un altro qui il dibattito giustamente un altro basta guardare da Perugia sulla piana della della piana di Bastia a Santa Maria degli Anchi ormai è invasora capannoni però parliamo di ambienti ma non ci occupiamo sarebbe curioso vedere visto che ci approssimiamo adesso cari amici poi volevo tornare nella parte finale a tornare ovviamente al punto di partenza che è il libro di Nazareno Stazzi però mi viene da dire spontaneamente nell'agenda politica visto che a breve si andrà proprio alle elezioni amministrative a livello regionale quanto queste tematiche sarebbe un'indagine che possono entrare prego Nazareno prego questa riflessione insomma allora per un momento mi tolgo i panni dello scrittore e parlo un po' da tecnico certo e velocemente allora noi secondo me noi Umbri non abbiamo la percezione delle nostre inquinamento anche perché praticamente e questo lo dico con grande dolore anche Enrico quanti quanti sogni l'università cambiare il mondo eccetera eccetera poi ci troviamo di fronte a dei sistemi a dei sistemi fatti da personaggi più o meno noti che gestiscono un po' gestiscono anche però l'informazione gestiscono i poteri e quindi praticamente noi non sappiamo oggi realmente realmente quanto danno quanto danno quanti fiumi sono realmente inquinati quante falde sono inquinate quante morte in una maniera magari delle coltivazioni lunghi fiumi praticamente dove praticamente l'anziano o anche il meno giovane crede di fare la coltivazione la coltivazione ecologica pura eccetera eccetera magari va annaffiare l'insalata con l'acqua contaminata perché quel depuratore rendiamoci conto i depuratori io qui dico una cosa il 90% e sono ottimista non funzionano non funzionano allora però queste cose non si devono dire nemmeno pensare certo perché spesso e non sono meno spendibili e non sono meno spendibili e chi lo fa ne paga un prezzo alto cari amici io come dire noi questa sera da questa riflessione da questo bel libro il confine di sogni Nazareno Sazzi e l'erudita io lo ricordo sempre perché poi il leggere credo che sia una delle attività che più ci permette anche insomma un po' di aprire gli occhi di conoscere non usciremo questa sera con un messaggio di ottimismo ma usciremo con un grido sicuramente di mi pare di capire di protesta di civile protesta e anche di appello quanti lo raccoglieranno non lo sappiamo però sappiamo una cosa che effettivamente sempre più il futuro non è rimandabile questo credo che sia il messaggio di questa serata che emerge io vorrei tornare per un pochettino sull'aspetto un po' anche diciamo no distopico e quanto mai no attemporale di una storia che però ha il pregio di parlare con un linguaggio che non ha bisogno di grandi mediazioni culturali o di titoli di studi alti questa è una storia per tutte le età per tutte le stagioni per tutti i cedi insomma credo che sia questo professore anche in merito di questa storia che apparentemente non bastano chissà non è spesso il volume delle pagine che fa un libro ma è proprio il contenuto il messaggio in questo caso è una storia adatta un po' tutti no professore non so la sua percezione quando l'ha avuto modo di leggerla io ho avuto il piacere di leggerlo in anteprima e sono rimasto sorpreso perché non sapevo che Nazareno scrivesse una seconda cosa la semplicità della scrittura di Nazareno è tutt'altro che sprovedutezza è quella semplicità che appartiene a quella linea di scrittura che va dai grandi classici come diceva prima la collega fino ad autori del novecento molto più popolari tipo Bukowski Bukowski non scrive in maniera banale scrive in maniera semplice ma è difficilissimo scrivere in maniera semplice perché tutti noi ci portiamo dietro le scorie di che cosa? della nostra cultura molta o poca che essa sia qui invece io sono rimasto sorpreso quando ho visto raccontare l'essenza dei fiori dell'erba in un mondo in cui non esiste a bambini che non l'hanno mai vista con quale parole noi spiegheremmo magari trovandoci a contatto con dei marziani con degli alieni su un pianeta rosso come può essere Marte quello che era l'essenza del pianeta Terra e lui è riuscito magicamente a fare questo e questo è un po' anche la magia di questo anzi io pensavo anche al vecchio il bambino di Guccini ma lui è stato molto più efficace lì vabbè c'è la limitazione del verso del canto ma qui invece c'è un'efficacia che viene dalla magia della scrittura la magia della scrittura è proprio così perché la scrittura evoca immagini evoca situazioni e Marina dall'illustrazione io per esempio mi viene di spontaneo dire qui si potrebbe veramente una piccola sceneggiatura per un piccolo cortometraggio animato cioè voglio dire questa è una scrittura che permette anche di trasportarlo in altre forme la riflessione no in effetti anche la genesi delle tavole è proprio una genesi che vede coinvolte più tecniche sono più tecniche unite che hanno dato luogo a queste tavole questi disegni che appunto sono visibili qui ma anche altre tecniche che sono appunto la tecnica plastica quella della vetrofusione tu hai stai non possiamo muovere la mostra però stai sperimentando diverse tecniche diverse tecniche con la luce con le vetrofusioni e quindi ma da tempo non da adesso e comunque si appunto è un testo che veramente si presta a essere detto anche in quanto ci sono dei passaggi che sono veramente poetici e quindi anche sarebbe una bella lettura anche ad alta voce e poi è evocativo di immagini molto evocativo di immagini e quindi sicuramente si può lavorare sopra per anche coinvolgere in maniera più avvincente i ragazzi o le persone che sono poi le persone più più libere mentalmente un adulto difficilmente si pone in maniera molto critica di fronte alla politica di fronte al sistema è più fatalista è più chiaramente stretto dalla necessità da certi e quando qualcuno fa questi discorsi lo guardano con scetticismo sei naif sei naif oppure non hai altro da fare no no gli interlocutori sono tanti devono essere gli adulti perché ci sono adulti che possono essere capaci di capire queste cose assolutamente e devono farlo io Nazareno direi che abbiamo come dire adesso mi verrebbe da dire ma ci sarà un seguito perché quanto mai io lo so me lo dicevi anche fuori onda non è la mia l'interesse da questo libro di avere nessun tipo di è stata un po' una sorta di urgenza proprio espressiva di buttare fuori quello che magari è la tua sensibilità il tuo mondo le tue esperienze eppure insomma ecco che ne so ci sarà un qualcosa che prevedi un'evoluzione in questo senso sinceramente mi dispiace per Enrico perché sarà la mia vittima ho già qualcosa già nel cassetto diciamo chiaramente io cerco di cerco di scrivere in una maniera semplice perché la favola secondo me entra con un linguaggio immediato nell'immaginario della gente delle persone uno lo coglie subito non ha bisogno di mediazione e quindi con lo stesso sulla stessa linea cercherò di non voglio parlare del contenuto ma cercherò di trattare dei temi altrettanti importanti che sento dentro questo è stato un grido di allarme è stato un grido di allarme è un messaggio d'amore come è stato l'impatto perché questo novembre 2018 l'impatto di questo libro presentato la risposta di chi l'ha l'ha avuto allora anche questo abbiamo due una scuola di Toscana praticamente ha fatto suo questo libro in una maniera senza chiedermi niente per fortuna e quindi praticamente hanno fatto degli eventi ho una difficoltà e questo lo devo dire devo ringraziare la casa editrice che ho pubblicato questo libro senza non mi ha chiesto nessun onere quindi perché se no non lo avrei pubblicato perché è facile pubblicare mettendoci i soldi sopra quindi la casa editrice ci ha creduto però non ha fatto niente per pubblicizzarlo e questo per questo io siccome io ho scritto per dare in qualche maniera per parlare anche con i giovani per parlare per dare dei gridi di allarme ecco perché non voglio niente non è un discorso diciamo di guadagno di interessi vediamo adesso abbiamo qualche ragionamento anche un qualche comune più sensibile non ho parlato io ho detto diamolo gratis tanto io adesso avrò le avrò le prenderò mi riprenderò i diritti i diritti ma andiamoli in giro sì no ma in effetti in effetti sì c'è un valore ovviamente ovviamente scusa volevo dire questo ha avuto un impatto positivo per chi l'ha letto perché l'ha letto mi hanno mi hanno chiamato ma anche diciamo no gente a livello di non di Enrico perché Enrico io lo considero a livello culturale molto molto alto molto alto e diciamo però gente che viaggia a un livello a livello suo mi hanno fatto i complimenti che ecco mi ha fatto anche piacere perché vuol dire che è un prodotto che può andare che può andare cari amici noi presidente Salvatore insomma questa è la seconda puntata di sport e incontri no nel parco in realtà anche questa sera le condizioni climatiche ci hanno un pochino no ma ci permettono anche però di scoprire tanti angoli di Civitella Darna però credo che questi questi momenti Lamberto di riflessione servono anzi vanno ingranditi vanno riproposti perché la gente comunque deve uscire un po' dal guscio mi viene da dire per un po' entrare nei gusci poi quelli poi che non si può uscire più mi viene da dire e quindi no non so qual è il tuo impatto di questa serata di questa seconda puntata assolutamente assolutamente questi sono incontri che magari in futuro faremo proprio in prima serata con un pubblico molto più vasto perché sono temi che vanno portati a conoscenza delle persone e anche una festa popolare paesana deve portare questi temi soprattutto soprattutto si è organizzata da una proloco che lo dice lo stesso nome la proloco è a favore del luogo a favore dell'ambiente a favore della storia locale della cultura e perciò chi meglio di una proloco non poteva essere che entusiasta di questa presentazione qui intorno tra l'altro noi non lo potete vedere c'erano tutte le locandine di tutte le attività che la ProArna ha fatto parte orizzata insomma un po' queste resteranno in mostra fino alla fine della festa è una mostra come dire di cui anche molti aspetti diciamo legati all'ecologia e all'ambiente perché poi si bella sempre noi ci siamo occupati di questo ma ecco per quello la presentazione di questo libro l'abbiamo inserita subito con estrema felicità perché purtroppo dico purtroppo è un tema molto molto attuale ma io direi che se ne parla troppo e se ne occupa poco perciò bisogna cominciare a parlare meno di ambiente e ad occuparcene perché altrimenti il destino è segnato il problema dell'uomo che non riesce a vedere al di là della propria vita dei propri 60-70 anni non ha una visione lunga e poi chi parla di questi argomenti come diceva Nazareno spesso viene deriso io mi occupo di ambiente oltre che come prologo anche come privato cittadino e spesso vengo vengo un po' preso in giro perché denuncio la discarica perché raccoglio i rifiuti e capisci che è una battaglia persa se chi si occupa di questi argomenti viene deriso la battaglia è persa ragazzi assolutamente anche se io non mollo e continuo ad impegnarmi come spero Nazareno come tutti noi presenti qui come questa platea che noi abbiamo qui intorno questa sera di persone che sono venute ad ascoltare queste nostre riflessioni e in fondo la mia speranza che noi questa sera comunque un piccolo semino l'abbiamo messo in un simbolico vaso nel dubbio soprattutto nel portare a conoscenza anche tanti ragazzi giovani quindi come dire questa è la speranza che comunque purché le cose i dati ci dicono impietosamente che siamo in un punto quasi di nuovo ritorno però insomma che si possa veramente la mente umana spesso ci ha insegnato che nella storia ha creato delle cose meravigliose anche cambiando spesso alcune regole e di fatto spero che le nuove generazioni possano dietro questo input portare avanti delle nuove regole per una vita più ecosostenibile e migliore io vi consiglio veramente Nazareno Starsi il confine di sogni l'erudita casa editrice una favola post apocalittica la fine dell'umanità il futuro della terra conservare la memoria e poi chiudo dicendo Nazareno solo la fantasia la magia dei racconti dei nonni era in grado di ricostruire i tempi passati e far sognare e fantasticare i propri nipoti io spero che dalla fantasia la realtà si possa tornare un attimino io ringrazio veramente tutti quelli che sono intervenuti ringrazio Marina Benedetti che è stata l'illustratrice di cui qui c'è una mostra qui a Civitella grazie potete anche applaudire abbiamo abbiamo la possibilità veramente grazie è stata anche per me personalmente molto appagante stimolante questa riflessione con voi in amicizia ringrazio ovviamente il professore Enrico Cerquiglini che come per prefazione ma poeta scrittura anzi mi farebbe piacere il professore poi in un futuro io mi occupo di una rubrica dei libri vedremo anche il futuro di sport incontri riprenderemo a settembre quindi come dire tutto quello che è libro quello che è lettura tutto quello che è trasmissione di conoscenze ma anche di storie noi siamo a disposizione ovviamente Lamberto Salvatore fa gli onori di casa e quindi lo ringraziamo comunque della sua presenza dell'ospitalità qui alla festa delle campagne del dialetto perugino a Civitella d'Arna e ovviamente grazie a Nazareno Stazzi a questa sua opera grazie davvero grazie a tutti un applauso veramente per tutti sport incontri qui a Civitella continuano nelle prossime puntate con altre tematiche non anticipiamo Lamberto perché l'appetito vi è mangiando voi continuate a seguirci sul canale 11 di Teleradio Gubbio e buona serata a tutti qui da Civitella d'Arna di Teleradio Gubbio di Teleradio Gubbio di Teleradio Gubbio